Grazie. Guardate tutto, c'è Giuseppe, vai, vai San Giuseppe, vai sulla destra, tutto dall'altra parte dell'asino, sull'asino. E' talmente salata che spesso, in questo secolo, c'è uno spazio vuoto di circa 20 mila metri cubi. che già nel 1700 iniziarono a mettere in pericolo la zona circostante a questo scavo nel 1761 i calcetti dei palegnami iniziarono dunque la costruzione di questa potente impalcatura il poeta tedesco ha detto che la mira è molto più interessante che la città di Placogna non sappiamo dire se è vero o no, però sicuramente questa opinione non è piacuta dalla direzione che all'epoca era diretti di Cracovia altrimenti non avrebbero messo a fare il fidello dei bagni più al canto, comunque perché c'è la scultura, al principio la camera Reimard, la prima camera del Vesegrino è stata accaduta perché c'è una spesa di unificazione di conquista dell'indipendenza della Polonia. del Vesegrino sul Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.